Scusate, un buon goccetto d'acqua. Allora, partiamo dalla partita di ieri. La partita di ieri, ragazzi, sento dire tante cazzate. Una dal capitano della Roma, Pellegrini, che dice un grande punto, un punto d'oro, perché fa? Scusate, ditemi la Roma che cosa fa con quel punto. Non fa nulla? Il problema è che non c'è la prestazione, perché se quel punto lì viene con la prestazione, è un discorso. Se quel punto viene come è venuto all'ultimo minuto dopo una prestazione di merda a Udine, dove l'Udinese meritava di vincere, e credo pure che ho più di un gol di scarto, perché ci sono stati almeno tre o quattro miracoli dei ripatrisi, un palo verso altre occasioni che sono stati là. L'Udinese, al primo quarto d'ora, una zero Udinese, già tre occasioni da gol per l'Udinese. È una cosa clamorosa. E il capitano della Roma che mi dice, no, però, alla fine abbiamo voluto il punto. Ma il punto è venuto anche in maniera casuale. E poi, oltretutto, festeggiare il punto a Udine per come è arrivato, a me non mi frega niente, perché il conto festeggia il punto se stai in lotta per la Champions League, e allora dici, vabbè, giocato giovedì, giovedì ho fatto un partitone, e allora arriva a sto punto qua, va bene. E sette giochi o scudetto è la stessa cosa. Sette giochi, l'ottavo, quinto posto, dove a Roma, ricordiamo, oggi a Roma è quinta, ma teoricamente potrebbe essere ottava. Oggi Lazio, Fiorentina e Atalanta hanno tre partite in meno. Voi ditemi che cazzo serve sto punto o festeggiare sto punto. A me non festeggio niente. A me io voglio vedere le prestazioni, perché è casuale sto punto come l'hai preso, come è casuale la vittoria che hai preso Corvidesse. Ragazzi, purtroppo siamo schiavi di risultati. Io no, sono schiavo delle prestazioni, perché che le prestazioni poi alla lunga te possono portare a vincere i trofei, arriva in Champions League, oppure agli obiettivi che devi, gli obiettivi prefissati. Giocando così puoi vincere una partita, con l'altra, vedi, già subito dopo la pareggi, ma se incontri una squadra seria ieri perdi tanto a poco, come perdi Corvidesse tanto a poco. Atteggiamento è sbagliato. È sbagliato pure qualche scelta di Mourinho, bisogna dirlo, perché se Daiale, credo che sabato sera in diretta, ti dice che Zaleschi, ragà, io però Zaleschi, io so che è un buon giocatore, però già ve l'ho detto, ragà, Bonico-Zaleschi, Bonico-Felix, Zaleschi che sicuramente sta giocando pure meglio a pallone di De Felix. Bonico-Darbo, quante volte mai avete sentito? Perché ho amici che vanno a Trigoria, guardano le partite, sono formati, c'è sta, Zaleschi è un buon giocatorino che deve crescere da un'altra parte, per la Roma Forte deve andare a prestito, ma Zaleschi tutta fascia, non lo può fare, perché poi trovo una o due partite, ad essa partita trovi un allenatore serio di serie A, che ti gioca tutto su Zaleschi, e il primo quarto d'ora, quella fascia là, te l'hanno asfaltata, ma è normale il ragazzino che si è impegnato le altre due partite, l'ha giocato con la testa, essendo disciplinato a livello tattico, bravo, tutto quanto, ma non è il suo ruolo, se è bene raddoppiato con giocatori con Delefeu, Molina, quelli all'altra parte, venivano tutti dalla sua parte là, è band difficoltà, band difficoltà, già un giocatore esperto, pensate Zaleschi, che giocatore fuori ruolo, e questa è una cosa che non ho capito. Poi Oliveira, centrocampo Oliveira Cristante, ragazzi, io con Oliveira Cristante, non so, è meglio che mi vado a vedere il concerto De Masini, che è una partita con Oliveira Cristante e mezzo al campo, so, Dubratipi, c'è posta uno, secondo me Cristante, Oliveira per me non è un giocatore da Roma, ma io lo dico, poi dopo c'è Stargò, no? Perché, ma è una pippa, c'è una pippa, è un giocatore, poi aspetta, ce n'è poi uno, c'hai Oliveira, poi andarti tre cani, andarti tu cani, che corrono, prezzano, allora c'è Oliveira, che col piedino così, ma quello c'ha, una fascia che te dico, fermate, mi pare Fiorello, con i piedi, i piedi piatti, c'hai i piedi così, che cammina, con Girello, raga, ma che sono giocatori, ma come cazzo, e io mi do senti da Murigno, che ci vorrebbero più Oliveira, e questa è una cosa che mi fa incazzata di Murigno, ma come fai a diccio, voglio 11, più Oliveira, ma che cazzo allenare, l'Enero del Manchester United, l'Armadrid, e quello, parco la tua pare, che ha allenato Spezia, e la Salernitana, ma che giocatori so questi, oh, ma che stiamo a scherzare davvero, ma che stiamo, stiamo scherzando per davvero, e questo per quanto riguarda, le scelte di formazione, un po' così bene, tu per me, è tre volte Oliveira, un po' mai uscito al campo, pure che gioca male, ma è più forte, poi primo tempo, prende Murigno, si accorge, lo fa uscire, gli mette la copertina, subito, ma da adesso la copertina, da nuovo, da adesso ormai, un po' più giocare, e questi sono tutti questi, caro, ma sono costati, lo dico io, fra commissioni, stipendio, tutto, almeno 5 milioni d'euro, almeno 5 milioni di euro, ma io, ma se prende il giocatore, con Oliveira così, ma faccio, ma faccio giocare di più bove, a proposito, bove, convocato, tra i pre-convocati della Nazionale Under 21, esclusiva da Iale, Under 21, ma faccio giocare a bove, almeno corre, almeno vedi, c'ha più passo, più gamba, sì, quello c'ha più tecnica, se gli arriva una palla dentro l'aria, mette il piede, tira, va sotto il croce, due volte, è successo così, con corbitezza e qualcosa, ma se stassano i ritmi, ne abbia mai, Oliveira, i Bagnas, i Bagnas ragazzi, è una cosa scandalosa, cioè i Bagnas ormai, il giocatore abbiamo visto, è questo, bravo, tutto quanto, ci servono i giocatori più forti, perché ci serve Smalling, un altro Smalling, ci serve Smalling, più un altro Smalling, per forza, e serve un altro difensore centrale forte, Abram, ieri ragazzi, è l'unico che non dico niente, perché Abram, le gioca tutte, c'è stata una partita, poi soprattutto, come gioca a Roma, per un attaccante è veramente difficile, Abram e Zagnolo contro tutti, lanci lunghi, per un attaccante è difficile, quando c'è una squadra invece che gioca, che attacca, che pressa, che comunque entra in area di rigore, il 4-5, per un attaccante dialogare è più facile, cioè Abram, per me è meno colpevole, Zagnolo invece è colpevole, di aver giocato una partita veramente, dove, sembrava fuori contesto, c'è la testa da un'altra parte, c'è scavata solo, un Zagnolo irriconoscibile, ha fatto altre partite, io ho sempre giustificato, dico che Zagnolo viene dopo due anni, ma ieri non mi è piaciuto l'atteggiamento del Zagnolo, per quanto riguarda Pellegrini, gioca male, gioca male anche lui, segna rigore, per carità del Dio, ma non mi piacciono, le dichiarazioni di Pellegrini, non mi piace se ricondivida la storia, che esurta così, ancora con l'Udinesi, ragazzi, ma io, ma noi siamo a Roma, ma perché devo andare nella mediocrità? Ecco perché quando vi dico la mediocrità, non c'è solo i giocatori forti, mannaggia la miseria, io penso che Totti, o il giocatore forti che c'avevamo prima, se fallo 1-1 dopo una partita del merda, come ha fatto a Roma ieri, piega il pallone dentro, la rete segna, piega il pallone, manca esurta, va dritto, a centrocampo, la mette là, quello, porca miseria, sta segnando una finale europea, no, perché grande, Grascia ha avuto, quel pallone pesava, ma che pallone pesava, è una partita contro l'Udinesi, che non si giocava niente, stiamo a metà classifica, stiamo a far settimo, il quinto posto, ma che pesava, ma che pesava, e c'è dite, no, però, la partita del giovedì, siamo stanchi, Pellegrini non ha giocato, Zagnolo non ha giocato, giovedì, la partita che giovedì, abbiamo fatta a 2 all'ora, allora, ragazzi, ma che, ma sono stati in ritiro, ma sono carciatori, sono carciatori, e porto tutta la stanchezza, la dovresti vedere, magari l'ultima mezz'ora, e a Roma è partita subito, come i primi tempi, che anche quando, non c'aveva le coppe, uguali, che è partita, come Roma-Genova, che il primo tempo, sta lì, e pa pa pa, pa pa pa, non pressa, tutti, tutti te dietro, con quell'altri che arrivavano da tutte le parti, i lanci lunghi, sempre così, sempre a 2 all'ora, perde tutte le seconde palle, tutti i contrasti, a me non mi sembra una cosa di stanchezza, a me non mi sembra, una cosa di stanchezza, quello, basta giustificarsi, oh, questi ragazzi qui, sono multimilionari, basta giustificare, ogni volta state sempre, a giustificar, cazzo, e il sanguavano, se lo fanno noi, qui se stiamo accontentando, no, però siamo quinti, non siamo, ma che cazzo, ma porca miseria, dopo 100 milioni d'euro sul mercato, con Murigno, ma al minimo, devi stare attaccata a Juve, devi stare là, porca miseria, fanno due partite, fatte bene, e ritorniamo un'altra volta, nella cosa, tu riusciamo a vincere, quattro, cinque, sei vittorie consecutive, non le fanno, dice Alea, però, veniamo tolto risultati consecutivi, ho capito, facciamo una cosa, prendiamo le prime dieci partite, le prime dieci partite, perdi due partite, le prime due partite, di campionato, perdi due partite, ne pareggi quattro, e ne vinci quattro, ma andate a vedere pure, che comunque, con chi abbiamo pareggiato, e andiamo a camminare, a voglia di fare, a voglia di fare, questa squadra, non si può rilassare, che non ha fatto niente, atteggiamenti veramente, mediocri, vedo qua, in questa piazza, fare post, mega calateri, per terzo portiere del Benfica, ma d'altra parte, ma chi cazzo, ma d'altra parte, il terzo portiere, ma cos'hanno chi so, e il terzo portiere, piano un portiere così, ma che fanno i posti, per terzo portiere del Benfica, beh stanno a fare una caposcia, così, fra gente, che fa, io, 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 vabbè, non mi fa parlare, oggi se parlo, vado a litigare poco, con la gente, vabbè che mi frega il cazzo, litigo con tutti, però porca miseria, posso parlare veramente, perché stanno a prendere per culo, oggi, il Sociedad a Roma, mi fa vedere, Pellegrini, che guarda, Begalo, Begalo, tipo a sfida, tipo Roghi, Ivan Drago, coccoso, ah ma che cazzo, gestisci il Sociedad a Roma, Marcini che attacca quello, ma che, ma che c'è stato a piac per culo, ma potete prendere per culo, i cesaroni, qui che stanno a piac per culo, io, ma faccio a piac per culo, a me queste sono cose, che a me non mi piacciono, io, devo giocare, al pallone, atteggiamenti, cogliete in mezzo al campo, noi, in faccia, in sguardo, e cose, passate a giocare, ancora in mezzo al campo, in faccia da fare, femminucce, dei contrassati, dei prestati, e fa, non ste facce, ste cose, ste imbruttite, ma che cazzo, ste imbruttite, ma che a me non stanno a giocare, al pallone, ma che stanno a giocare, al pallone, ma che atteggiamenti so, i festeggiamenti, per correggio, dopo una partita, rapinata, a livello di gioco, no, perché rigore c'è, ma a livello di gioco, all'Udinese, i festeggiamenti, che festeggiamenti, siamo a Roma, siamo a Roma, stanno mandando una mediocrità, allucinante, anni, 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 anni di mediocrità, se incestano, se incestano giocatori mediocri, i buoni giocatori, porca miseria, e quelli, quelli forti, veri, li abbiamo mandati via, li abbiamo mandati via, a caccio in culo, e no, perché Abram, Abram, i poccio, le cose su, Abram ha fatto 12 euro, ma c'è 45 milioni di euro costa Abram, più 6 milioni di euro del caccio, ma che ha fatto, ha fatto il suo Abram, ma cosa ha fatto, quello è il fenomeno, l'altro è il fenomeno, l'altro è il fenomeno, l'altro è il fenomeno, tutti gli anni stiamo a far schifo al cazzo, Abram, per carità di Dio, se no capite male, Abram è il, è il meno, cioè, è quello che fa sempre il suo, Abram, ma sta a far suo, perché se no che fa il mobile, dall'altra parte, che fa, Abram è il grande attaccante, ma neanche, si è inventato chissà che, segna, fa l'attaccante, devi segnare 45 milioni, segna Simeone, basta esertare i giocatori, fanno lì giocare, fanno gli ragazzini, i ragazzini, i ragazzini, Zaneschi, quattro settimane, tu palle così, Felix, quattro settimane, tu palle così, ma cazzo, i giocatori da Roma, ma che cazzo, volevamo fare a Roma, volevamo andare a Sarebì, a Roma così, con i conteggiamenti, andando avanti così, ma andiamo a Sarebì, oh, ma siamo la sticella, ci sono bello, di andare via, con i frecchi, ne vuole, basta, mettete la gente competente, ritorniamo a fare squadra forti, Mourinho è uguale, cominciamo a pretendere, pure da Mourinho, oh, ah, Giuseppe, siamo stati tutti con te, stiamo con te, però, facci vedere qualcosa, ma a livello di, beh, famete qualche cosa, pure scelte di giocatori, che piamo, e che cazzo, ma siamo diventati porca di feria, la salernità, no, spesso, c'hiamo degli atteggiamenti, i miei tifosi, io, io mi metto le mani, proprio nei capelli che non ho, basta, ma questo, ragazzi, se la Roma vince la Confrenze League, ve lo dico oggi, se la Roma vince la Confrenze League, perché lo può fare, se giocano come contro l'Atalanta, non cambia niente, questi giocatori, e Jacopinto, vanno cambiati, perché quella là, una coppa, che è veramente, una squadra come la Roma, con, 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 con quell'ingaggio, la Roma la può vincere, ma non cambia, cazzo, eh, festeggiamo, perché bisogna festeggiare, una settimana, ma questi giocatori, vanno cambiati, Ciccio Beto, va cambiato, perché i danni, sono stati fatti, e qualcuno, deve rimediare, questi danni, e io non mi fido più, di Jacopinto, ma domenica, c'è il derby, domenica, c'è il derby, che Roma ci sarà, lo sapete voi, io non lo so, non lo so, perché, non sa, sa Roma, che Roma ci sarà, confidesse, che Roma troviamo, boh, non lo so, con la tonta, che Roma troviamo, non lo so, anneggia la miseria, non abbiamo fatto niente, non abbiamo fatto niente, vinceremo con Spezia, abbiamo fatto i cosi, mamma mia, o Spezia, vinceremo con la tonta, in casa, questa normalità, vincere con la tonta, in casa, è una normalità, gli anni passati, che non è normale, che noi abbiamo svegliato, di continuo con l'Atalanta, e poi non ha fatto niente, devi continuare, invece che fai, prendi, vai a giocare una partita del merda, la vinci, per carità di Dio, la vinci immediatamente, e poi domenica, te pensi che vinci uguale così, con Udinese, che è un po' meglio, del Vitesse, non vinci, se non fai la prestazione, e ripeto, il punto, me lo prendevo, se vedeva la prestazione, se magari la Roma, calava all'ultima mezz'ora, allora io, vedo la Roma, calava all'ultima mezz'ora, dico, sono stanchi veramente, e c'è sta, Pier punto, va bene, ma la Roma, gli è intranciavate, come entrata in partita, che non aveva coppe, e questo non va bene, non va bene, per rispetto, dei tifosi della Roma, che sono andati a Udin, un'altra volta, tanti, ho pure amici miei, che sono partiti, sono andati a Udin, a vissi, solo per la maglia, perché per quell'altri, ma per quanto, ti maritano un cazzo, sono sempre la maglia, ma questi, se maritano un cazzo, sono stanchi, i porelli, ma che cazzo, sono stanchi, ma che cazzo sta, la prima partita, che hanno fatto, dopo un se sa quanto, del giovedì, se siamo riposati, abbiamo potuto allenarsi, e tutto, a prima, pensa se voi, con tutte le volte, speriamo di passare, per vitezza, e giocammo tutto il giovedì, e fanno, e perdiamo tutti, ma che cazzo sta, ma noi, abbiamo un contratto Udinese, che è una buona squadra, dei Serie A, per carità di Dio, ma non stiamo a parlare, che ha incontrato l'Inter, basta giustificare, basta, 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 pedaliamo, pedaliamo un campo, dobbiamo pedalare, siamo la Roma, basta esaltare un cazzo, niente, basta farse prendere per culo, che vi mettono qui i post, di imbruttire dei giocatori, quello è il gladiatore, quello c'è la vena sul collo, o quell'altro, ma che cazzo, ma andiamo a giocare a pallone, la gente forte che gioca a calcio, ma non scherziamo, non scherziamo veramente, non scherziamo veramente, non scherziamo veramente,